Musica Salve, eccoci qua ragazzi e ci troviamo in una nuova campagna di giochi horror che è la prima e che continuerò a fare con quelli che mi consiglierete è la campagna di Slender The Arrival ovvero una nuovissima campagna di Slender oppure una nuovissima campagna di Slender è stata pubblicata non molto tempo fa e fa molto più paura di quello normale quindi il primo livello non ci sarà niente da guardare se sto qua ma perché non fa paura non c'è niente di che quindi non niente quindi non è che spara spero ridere come gli altri e va bo camminiamo devo fare un test per sincronizzare sbattiamo andiamo avanti masticando un angolo cazzo una carmella andiamo senti god non è che faccio un'altra cosa però è battuta buona devo andare a vederli qua sì mh il bug allora ve lo consiglio vivamente perché ci potrebbe far venire un'altra caccarella comunque è un bel gioco è molto consigliato beh in poche parole ve lo consiglio mi vedo sembra che più ci stiamo avvicinando al muro e più tutto il tempo tipo oscurendo tutto ho solo una mia impressione cos'è quello? è una casa è una casa oddio mi piace scurriccio tutto no 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 un sale di merda oddio no 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 eccoci qua ecco qua casa dolce casa cartello oddio perché è aperta la porta? dovrebbe essere io ho provato ma ho dei problemi ad aprire e chiudere le porte ecco qua oddio c'è uno slender apriamo la porta e dobbiamo entrare in cucina mangiamo un po' di marmellata ok eccoci con cucina cosa dice flashlight ladder batteries carosene va bene c'è già una torcia si c'è un piano non aspettate vedo chi è arrivato vero che sono successe cose ovviamente oscene e che io non abbia guardato aprila la porta è sempre chiusa eccoci qua eccoci qua ragazzi fuori c'è lo slender qui fuori c'è lo slender ma lo so ti ho visto e mi fa una bella pompata non l'avevo vista cazzo vale va l'indor l'indor il da che non problema apriamo compriamo prima il ciuetto 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 di chiavi mmmm mi gusta sprompiamo spero che sono queste chiavi perchè io non voglio ci voglio ancora di voler entrare sul lato di the door apriamo oh che cosa succede non voglio oh cos'è sto urlo oddio perchè il cancello sempre perchè si è aperto aspettate un secco oddio quello c'era o non c'era non mi parlo 6 ok 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 devo andare a vedere dove c'era la scatina ok apriamo sta porta che non ho mai capito ma perchè l'ha fatto la bruglia su studio come si apre ora che ho la torta come si apre mi è passata attraverso ma ma no non si muove o neanche Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Oh, caccia... Dei bassi... Dei bassi... Ah, stiamo in cifra... Oddio Dovrei andare a Cercare qua Sì, è su quella stradina Olè Primo episodio finito E Questo lo continuerò Domani con un mio amico Ovviamente perché io non mi voglio cacare addosso E quindi Ci vediamo alla prossima puntata Sì